E per il giovedì di questa settimana un nuovo arrivo molto importante. Tenevo parecchio ad includere questo prodotto nel catalogo di Backpack. L'ASP Key Defender. Sono degli spray al peperoncino per la difesa personale. Questo è proprio il mio, adesso lo scarto insieme a voi, vi faccio vedere un po' come funziona. La particolarità di questo oggetto è che non è soltanto utile per erogare lo spray, ma è una volta afferrato in mano un Kubotan pronto per essere utilizzato. E' ovvio che se già mi sto difendendo con lo spray potrei avere bisogno, in caso di prossimità estrema con l'aggressore, anche di un Kubotan. Imparare ad usare questi strumenti, imparare ad usare queste tecniche, sicuramente vi farà vivere in maniera più sicura e più pronta. Vi basterà rimuovere questa plastica qui, che blocca la sicura, Ora io per ulteriore sicurezza e per evitare di peparmi mentre faccio il video, che poi rimane il meme per tutta la vita, rimuovo anche la cartuccia. Ma vi spiego tutto. L'ASP arriva già con la sua cartuccia di gas urticante all'interno. Io l'ho rimossa solo per farvi vedere come funziona. E' un contenitore di alluminio, non sembra una penna. E se dovessi utilizzarlo, mi basterebbe aprire la sicura e schiacciare. Allora devo applicare l'anello in qualche modo in questo foro. Potrei farlo con le mani, ma perché farci male quando possiamo evitarlo? Allora utilizzo il leverino presente nell'Etherman Free. Faccio semplicemente per divaricare l'anellino in acciaio, in questo modo. Lo faccio passare qui dentro, dai che non devo spiegarvelo io come si passa un anellino per le chiavi. E lo sistemo qui. ASP ci fornisce due anellini. Ce li fornisce perché, beh, dipende da quante chiavi portate. Anche, ma soprattutto, da come vi trovate ad utilizzarlo. Questo è un ottimo punto per prendere dalle tasche il nostro Key Defender. Quindi metto il pollice, ma voglio anche evitare che il pollice magari mi rimanga ingastrato se devo fare una collottazione. Io però vi faccio vedere come funziona, come è strutturato l'oggetto. L'erogatore in alluminio ha questa sicura, che si stacca in questo modo, che si disattiva in questo modo. E ci permette di schiacciare la cartuccia all'interno. Va da sé, si capisce benissimo, che se io schiaccio la cartuccia, qui proprio come una bomboletta classica pressurizzata, avviene l'erogazione da questo foro qui. Per questo io dovrò puntarlo in questa direzione. Una volta che lo punto in questa direzione, ho 1-2 metri di spazio per far arrivare l'erogazione addosso all'aggressore. L'ingombro è davvero minimo, lo portate ovunque, questa è una caratteristica importantissima, proprio perché quando vi serve dovete averlo, dovete trovarlo. Lo mettete nella tasca posteriore dei pantaloni ed è pronto. Una volta avvenuta l'erogazione, se ho bisogno, lo utilizzo come Cubotan. Quando vi arriva, iniziate a giocarci, fate un po' quello che ho fatto io. Rimuovete la cartuccia urticante, altrimenti vi cacciano di casa che tanto lo so, fate qualche guaio. Applicate l'anello che vi torna più comodo, io preferisco quello grande perché voglio avere la libertà anche di lasciarlo se dovessi avere bisogno. Cominciate a capire come funziona, guardatevelo, studiatevelo. Fate in modo che questo gesto di togliere la sicura e puntarlo diventi in qualche modo automatico. Conoscete bene e imparate a conoscere sempre meglio gli oggetti che servono per la vostra sicurezza. Un supplemento molto utile per la SP Key Defender può essere la Light Writing Patch di 5.11. Una patch che vi permette di applicarlo in questo modo al posto di una penna. Ad esempio io ho qui il mio MOAB, lo zainetto e il monospalla, dove di solito va la pistola nella tasca, questa qui per il porto occulto. All'interno c'è un pad di Vercru. Io posso posizionare la Light Writing Patch con il Key Defender. Come faccio a farlo bene? Beh, l'unico modo che conosco io è indossare il vostro zaino, postarlo come fareste in caso di emergenza sul davanti e solo quando lo avete qui applicate dove vi serve la vostra patch. Avendolo settato già addosso, io so perfettamente dove andare a trovare il mio Key Defender se mi serve durante un'aggressione. Se avessi fatto questo assemblaggio su una scrivania, su un tavolo, beh è difficile prendere la posizione migliore. Così già lo so, prendo il mio Key Defender se mi serve e lo tiro fuori in un attimo, sono pronto ad operare. Questo tipo di cartucce hanno una scadenza e su Backpack trovate quando vi serve il ricambio più fresco. Questa adesso scade a febbraio 2025, quindi nella prossimità di quella data vi ordinate una nuova cartuccia e la inserite al posto di questa. Se volete capire meglio come funziona o volete partecipare a un corso o comunque non volete la sorpresa di utilizzarlo la prima volta, e questo ve lo sconsiglio, in un momento d'emergenza, procuratevi, sempre disponibile su Backpack.it, una cartuccia di test, una cartuccia che è caricata con la stessa pressione o la stessa modalità di quella urticante, ma non ha all'interno il peperoncino. Quindi ci permette di capire come orientarlo, dove spruzzarlo, quanta forza fare, senza far male a nessuno, senza farci male da soli. La SP Key Defender è disponibile in diversi colori, ce l'abbiamo rosso, viola, grigio, azzurro, nero. Sceglietelo come vi pare, in base a dove lo volete conservare e quello che ci volete fare. Adesso rimonto la cartuccia all'interno, cercando di ricordarmi che non devo più giocarci perché c'è la cartuccia. È semplicissimo e basta farla scorrere qui e riavvitare il cappuccetto. C'è un O-ring che serve sia per non far entrare l'acqua, ma vabbè è bucato di qua, quindi non è quello il problema. L'O-ring ci aiuta a non far svitare il cappuccio dietro, quindi rimane tutto stabile. Dunque vi ricordo che per utilizzarlo vi basta rimuovere la sicura e schiacciare... Non ci state credendo, vero? Bene, ISP Key Defender su Backpack.it